Il debito della sanità abruzzese continua a crescere, a dirlo è il capogruppo del PD in Consiglio regionale Silvio Polucci. Il Dipartimento Sanità ha inviato una missiva alle quattro ASL tramite cui chiede il piano di rientro. Significa che la Regione ha intimato alle quattro ASL di rientrare per una somma di decine e decine e decine di milioni di euro. Ovviamente questo significa che le bugie hanno le gambe corte. Da un lato si propaganda una rete ospedaliera espansiva dove dovrebbero esserci investimenti, questo per la gente, per i cittadini, sindaci, le comunità. Dall'altro lato invece, in modo burocratico, di fatto si inviano delle lettere intimidatorie alle ASL e si dice di tagliare. Le ASL dovranno presentare il piano di rientro, si legge nel documento, con puntuali misure volte a recuperare la perdita presunta e garantire gli equilibri finanziari ed economici del bilancio. Insomma, il Dipartimento chiede alle aziende sanitarie trasparenza sul bilancio, alla luce delle criticità emerse dal tavolo di monitoraggio del 20 luglio scorso. La data limite per mettere i conti in ordine è quella della 10 settembre. Se i piani di rientro non dovessero essere presentati, i manager delle ASL potrebbero essere messi in discussione. Il disavanzo del 2021 viaggia a oltre 100 milioni di euro. Il 2020 sono stati coperti quelle risorse, quei debiti, con dei finanziamenti straordinari del governo Conte, Conte II e poi quello Draghi. Nel 2019, coperti con le risorse per gli investimenti dell'ospedale di Chieti, insomma è solo un taglio. E tra l'altro, a parte la propaganda, zero atti approvati dal 2018. Ovvero la nuova giunta, Marsilio Verì, hanno prodotto zero. È come se per la sanità in Abruzzo non ci fossero mai stati.